Bene, grazie Presidente. Allora, io vorrei partire rifacendo un po' la cronistoria di quello che è accaduto nel corso di questi anni con questo bilancio 2017. Ricordo quando fu proposto dall'allora amministratore di Yama, messo da noi un bilancio con un positivo per 800 mila Euro e fu respinto dalla Giunta, in quanto c'era una partita dei servizi cimiteriali di 18 milioni di Euro che non tornavano e dunque è stato ritenuto non esattamente veritiero. Questo ha di fatto aperto un vaso di Pandora perché poi, come saprà, sono stati anche citati da altri consiglieri, da quella situazione sono scatorite anche delle denunce per cui è intervenuta la magistratura che adesso sta controllando i bilanci dal 2003 e a quel punto, aprendo proprio il vaso di Pandora, ci siamo ritrovati a scava-scava a far sì che ora il bilancio 2017 non viene approvato con meno 18 milioni di Euro, ma viene approvato con meno 227 milioni di Euro. Questa è un'operazione verità, è un'operazione trasparenza che si sta facendo relativamente ai conti del passato per tutta una serie di ragioni. In questo ha un valore particolare, se ne è parlato veramente tanto, il centro carni. Il centro carni che negli anni passati nella gestione alemanno in un momento di crisi fu dato da Roma Capitale a Ama per rivalutare il capitale di Ama e praticamente gli è stato dato a un valore che di fatto era 116 milioni di Euro perché lì si potevano costruire le case. Il punto è uno però, io sinceramente con la situazione che si sta generando adesso, con un controllo minuzioso dei bilanci che si sta facendo dal 2003 in avanti devo dire che questa cosa, se fossi un consigliere delle altre amministrazioni, sbanderei un attimo perché in realtà questa valutazione è stata inserita all'interno del bilancio di Ama ma non sono stati prodotti gli atti propedeudici di Assemblea Capitolina, quale la variante urbanistica che davano effettivamente titolo a dover rivalutare quell'area. Dunque noi oggi ci ritroviamo in una situazione in cui dopo lunghissime riunioni, valutazioni sul futuro del centro carni che peraltro è un futuro che riguarda la... è un futuro che riguarda la... è proprio sul futuro di quest'area tenga conto che l'assessore Lemetti e la Giunta hanno organizzato questa cabina di regia, se ne è parlato tanto ma io vorrei leggere le parole finali di questa relazione che è stata poi inoltrata ai consiglieri qualche giorno fa perché si è chiusa la cabina di regia soltanto il 4 di marzo e che dice resta inteso che gli organi competenti destinati al presente lavoro rimangano autonomi nella decisione che intenderanno intraprendere e quindi la cabina di regia demanda alle strutture competenti le attività seguenti necessarie alla riqualificazione dell'area. Dunque questa cabina di regia ha avuto il ruolo solo di andare a fare un'analisi su quello che era la possibilità del futuro dell'area ma a oggi non era possibile non andare a inserire nel bilancio il valore reale qui stiamo parlando di svalutazione, in realtà dovremmo parlare di valore reale del centro carni e il valore reale a oggi è di circa 24 milioni di euro per una svalutazione di circa 92 milioni di euro dunque questa è stata l'operazione, una delle operazioni ma scava scava sono state trovate diverse questioni che poi a questo punto si è dovuto necessariamente andare a cercare di ripianare e dover sistemare anche perché in tutto questo periodo io non ho alcun dubbio, ho grande stima sulla competenza e il lavoro che ha fatto l'assessore Lemetti in questi anni sui conti di Roma Capitale in generale ma certo che anche l'attività della magistratura su questi milanci ha fatto sì sicuramente che si mettesse un'attenzione 100 volte superiore rispetto a quello che già normalmente era assolutamente molto alta per cui si è arrivati a determinare la situazione del bilancio 2017 a meno 227 milioni di euro e qui detto francamente l'idea che prima o poi qualche cosa salti fuori anche in termini io ritengo poi non lo so, spero che non sia così ma ritengo anche penali penso che qualche cosa debba necessariamente accadere comunque detta questa situazione noi stiamo facendo una pulizia proprio sui conti perché lo abbiamo sempre detto abbiamo sempre detto che la pulizia della città parte dai conti di Ama perché fatta pulizia lì si riesce a fare un'operazione seria anche nella città dunque questa situazione dei 227 milioni di euro ha innescato un meccanismo e questo meccanismo è un meccanismo che ti dice guarda che devi fare riferimento all'articolo 2446 del codice civile ovvero tu devi fare un piano di ristrutturazione e di risanamento e avendo innescato questo meccanismo è ovvio che la responsabilità di questa amministrazione è che non solo ha individuato il problema ma ha individuato anche la soluzione per cui ha trovato i fondi necessari 256 milioni di euro da mettere dentro Ama per ripianare questa situazione tenere Ama solida pubblica perché di questo noi stiamo parlando io ho detto francamente oggi per me ci vuole coraggio a non votare a favore di questa delibera perché stiamo decidendo il futuro di questa società e stiamo decidendo il futuro della gestione del servizio e questo ovviamente io devo dire mi sento che il lavoro che è stato svolto veramente minuzioso sui dati e sui conti di Ama io mi sento come dire molto diciamo sicuro che questa delibera debba essere votata favorevolmente io le dico che in questi giorni c'è stata una grande discussione anche sulla relazione dell'OREF e io ringrazio l'OREF perché ha dato degli spunti molto importanti a tutti i consiglieri per poter dibattere tra di noi approfondire, ragionare abbiamo dibattuto moltissimo nella commissione bilancio ed ambiente e nel ringraziare l'OREF per questa relazione che ci hanno fatto io vorrei sottolineare alcuni aspetti lo diceva il consigliere Bugarini che faceva riferimento a questa se vogliamo valutazione perché la giunta è andata a incentrare tutto quanto lo schema della delibera sul comma 4 dell'articolo 14 del TUSP il testo unico delle società partecipate ebbene l'OREF diceva ma non è il caso di andare a valutare non il comma 4 ma il comma 5 ebbene il comma 5 lo leggo testualmente sono le amministrazioni che rilevano sulle società e ora leggo testualmente scusate solo un istante che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infraannuali dunque il comma 5 parla chiaramente di tre di tre esercizi consecutivi che con perdita e non è il nostro caso perché nel nostro caso ce ne sono due per cui l'OREF poi comunque dà un consiglio all'amministrazione di poter mandare comunque la documentazione in base alla Corte dei Conti e ad Arrera come indica il comma 5 alla Corte dei Conti è già stato fatto e ad Arrera l'assessore del Metti ha già detto che lo farà per cui detto francamente ritengo e riteniamo che comunque sia corretta l'impostazione generale che ha dato l'Aggiunta di poter impostare tutta quanta la delibera è sul comma 4 dell'articolo 14 del TUSP l'OREF va anche a indicare a fare ulteriori sottolineature ebbene una sottolineatura l'ha fatta in base a una delibera che noi abbiamo già approvato e abbiamo approvato il 30 settembre del 2020 ed è il piano economico e finanziario del 2020 ebbene in quella delibera noi abbiamo fatto una operazione abbiamo messo i crediti inesigibili degli anni dal 2003 al 2009 per 102 milioni di euro li abbiamo tolti dal bilancio di Ama perché erano soldi fittizi e li stiamo rimborsando con soldi veri veri in 4 anni allora questa scelta viene fatta in base ad una precisa norma di legge e l'OREF indica che l'amministrazione dovrebbe adottare un atto specifico che evidenzi le motivazioni giuridiche del trasferimento di tali somme ma il motivo giuridico è indicato nella delibera che abbiamo approvato in aula la 118 il 30 settembre del 2020 e che dice che ai sensi dell'articolo 1,654 bis della legge 147 del 2013 le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili allora tra le componenti di costo per cui bisogna caricarlo tra le componenti di costo ed è esattamente quello che è stato fatto da questa amministrazione con la delibera del 30 settembre 2020 l'oref tra l'altro ci fa un rilievo anche relativamente alle partite di la conciliazione delle partite di crediti debiti e fa un caso specifico si evidenzia in merito della fattispecie collegata all'odocolari ebbene l'odocolari è una sentenza per cui Colari ha vinto nei confronti di Roma capitale c'è una partita di 86 milioni di euro e la giunta ha già messo in campo tutte le azioni per dare seguito alla sentenza serve il palere dell'oref su questa sentenza si sta aspettando nel momento in cui arriva ovviamente partono tutte quante le azioni conseguenti un'ultima cosa che mi viene da come dire sottolineare rispetto alla relazione dell'oref quando dice che il piano industriale oltre i 340 milioni che sono all'interno del piano industriale Roma capitale dovrebbe collocare altri 500 milioni di euro questo lo rileva come un problema qui ci deve essere stato un piccolo come dire problema di valutazione perché noi si facciamo riferimento al piano economico e finanziario approvato nel 2015 per il piano economico e finanziario tra il 2015 e il 2029 ma quel piano finanziario faceva come dire si strutturava anche su un piano industriale che prevedeva i quattro ecodistretti e che noi abbiamo detto in realtà il piano industriale lo vogliamo fare in modo diverso io vorrei ricordare anche ai colleghi del PD insomma che quel piano industriale prevedeva di poter andare a trattare 200.000 tonnellate di rifiuti al salario un posto che era un impianto che è stato costruito nel 1981 poi è intervenuta la normativa il tuo il testo unico ambientale che indicava delle precise indicazioni su come devono essere realizzati gli impianti di rifiuti e si dice che devono essere realizzate una tra le tante norme a 500 metri dalle case sparse ora passate lì sulla salaria e vedete i palazzoni a che distanza stanno dall'impianto del salario che noi avevamo previsto di voler chiudere nel corso del tempo come Rocca che si trova nella stessa situazione e quel piano industriale indicava di mettere i rifiuti 200 mila tonnellate anche lì e in realtà in realtà non l'abbiamo fatto semplicemente perché la normativa non prevede che si possano trattare i rifiuti a quella distanza dalle abitazioni dunque ha fatto la valutazione sulla base di quel piano industriale in realtà noi ne stiamo prevedendo un altro che ha 340 milioni di investimenti e che ci sono questi 340 milioni di investimenti dunque noi ci troviamo in questa situazione io vorrei l'ha fatto anche il collega Terranova mi ha anticipato perché avevo pensato di farlo anche io fare un riferimento a mia nonna io ricordo quando ero bambino e lei mi chiedeva di dover aiutarla a trovare il bandolo della matassa della lana che si era aggrovigliata normalmente è un'attività molto complessa dover fare questa cosa ci vuole del tempo però una volta trovato poi si mette là si annoda tutto quanto la lana e da quel momento si può partire ecco noi abbiamo fatto molta difficoltà a trovare il bandolo della matassa della correttezza dei conti di di ama è stato un lavoro molto complesso molto molto difficile per ora l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato e stiamo impostando tutta un'attività per il rilancio di questa di questa di questa società lo stiamo facendo con basi molto solide perché stiamo mettendo soldi veri soldi veri all'interno di ama lo facciamo perché crediamo lo abbiamo sempre detto che ama deve essere una società pubblica e vogliamo che si rafforzi questa società io vorrei anche come dire sollevare e sottolineare rispetto alle affermazioni che hanno fatto i colleghi del PD che hanno detto che le organizzazioni sindacali stanno protestando rispetto a questo piano industriale in realtà vorrei dire che non è assolutamente così perché lo sciopero deorganizzato dalle organizzazioni sindacali CGL CISL e FIADEL riguarda tutt'altri argomenti rispetto a questo piano industriale e all'approvazione dei bilanci per la difesa del contratto nazionale per il rispetto degli accordi per l'apertura di un tavolo sul lavoro baricentrato ovviamente sto leggendo il volantino e mi piace voler ricordare che tra i vari documenti che ho trovato in rete in questi giorni ho trovato un comunicato della USB il quale dice ora modificare il piano regionale approvare i bilanci e il piano di risanamento AMA alla fine del comunicato USB che dice occorre investire in un servizio pubblico che preservi il territorio e la continuità occupazionale a partire dalla modifica del piano dei rifiuti regionali e dall'approvazione dei bilanci e del piano di risanamento AMA io vorrei ricordare ai colleghi come in quest'aula spessissimo giustamente lo ricordo assolutamente giustamente hanno fatto bene il proprio compito di opposizione ci hanno ricordato molto spesso che bisognava approvare questi bilanci che erano rimasti in sospeso e avevano ragione avevano assolutamente ragione ora noi lo stiamo facendo è stato un lavoro assolutamente complesso un lavoro un lavoro molto articolato che ha impiegato veramente tanto tempo per poter arrivare a determinare come qual era la situazione migliore ora noi ci ritroviamo a dover rilanciare questa azienda come era giusto che fosse io vorrei fare anche un parallelismo con quello che abbiamo fatto con Atac nel 2017 noi con Atac io devo dire in quell'occasione è stata un'operazione ben più forte con portare i libri in tribunale e avviare il concordato preventivo in continuità quando l'abbiamo votata in aula oggettivamente era una situazione molto delicata con un miliardo e trecento milioni di debiti io ricordo le urla in aula che ci dicevano che noi volevamo privatizzare a Atac e stavamo regalando Atac ai privati ho sentito nelle dichiarazioni dei colleghi affermazioni simili che noi vogliamo regalare Ama ai privati io credo che l'errore che sia stato fatto su Atac che noi abbiamo continuato a salvaguardare come pubblica e abbiamo continuato a tutelare e abbiamo stiamo risanando i conti nonostante tutte le difficoltà anche legate alla pandemia ora lo stiamo iniziando a fare su Ama lo abbiamo fatto troppo con ritardo in parte forse sì l'ho spiegato già c'è stato un problema enorme enorme per quanto concerne il trovare questo bandolo della matassa come uscire fuori da questa situazione io veramente vorrei poter fare un ringraziamento a un ringraziamento alle persone che hanno lavorato a tutto questo piano di risanamento di ristrutturazione ai bilanci che è stato un lavoro veramente enorme io anzi mi sento veramente che questa è una delle delibere più importanti che questa amministrazione sta approvando in questa consigliatura e devo dire che un po' mi inorgogisce il fatto di come la stiamo gestendo poi al di là delle modalità insomma sul quale possiamo ragionare ma quello che stiamo facendo quello che stiamo facendo a me inorgogisce perché è perfettamente in linea con quello che noi abbiamo detto nel corso di questi anni ed è quello che abbiamo detto in campagna elettorale ovvero che volevamo salvaguardare le società di Roma Capitale come società pubbliche e questo è per questo che io sinceramente faccio un invito a tutti i colleghi di rivalutare la loro posizione e secondo me in questo momento non si può non votare a favore perché questo è proprio uno spartiacque questa delibera oggi chi vota a favore vota perché ama rimanga pubblica e rimanga sotto il controllo pubblico e venga rilanciata più forte di prima chi non fa questa scelta ha detto francamente va in un'altra direzione dunque io invito veramente tutti di poter rivalutare e poter approvare questa delibera grazie presidente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti